E' letto! 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 Casa Pau d'Italia non ti ha dimenticato! Questo governo è stato abbandonato! Casa Pau d'Italia non ti ha dimenticato! Noi siamo italiani e facciamo per l'Italia, noi facciamo parte di movimento patria sociale. Però manifestato insieme alla Lega che dice prima il Nord. Attenzione, la manifestazione della Lega per quanto mi riguarda so che è per il discorso di Mare Nostrum. Noi siamo qua che condividiamo questa idea, siamo qua per manifestare, per togliere Mare Nostrum. Però la patria non ve la tocca nessuno insieme. L'Italia non ce la deve toccare nessuno. Ma prima il Nord o prima gli italiani? Prima il Nord e dopo il resto d'Italia, dal fiume Po in giù. Ma per la verità mi interessa prima il Nord e poi tutti gli altri. Prima il Nord sicuro! Eh, calcita! Prima la cara mia, poi la cara degli altri! La nazione Italia le piace? Ma questa qua è una cosa che c'ha l'imposto. Io abito vicino alla Svizzera e mi sento più a casa mia, di là del confine. Il Veneto è uno Stato, non è una ragione e non è assolutamente legato a uno Stato che è fasullo e che non è mai esistito per noi. Non solo per lo Stato Veneto, della vecchia nostra e continuità, quella della Repubblica di San Marco. Però poi dietro di voi spunta l'istruzione prima degli italiani. Fa strano, però non fa strano il concetto. Loro sostengono quello che deve essere comunque sentito e quindi deve essere gridato da chiunque e sostenuto comunque trasversalmente. Ma sul tema dell'indipendenza non ci sentono proprio? Non importa, quello è un altro tema. Oggi qua siamo appunto per l'invasione e per l'immigrazione. Quando lotteremo per l'indipendenza sarà ogni Stato, quindi ogni regione, che noi sosterremo perché questo avvenga. E' l'autolimpero! E' l'autolimpero! Primi italiani, va bene. Ci siamo che noi però. Ci siamo che noi.